E' andato a parlare direttamente con il pubblico ministero per riferire che il suo assistito continua a professare la propria innocenza, l'avvocato di Daniele Bedini, il 32enne di Carrara, fermato con l'accusa di aver ucciso Nevila Pietri, la prostituta albanese di 35 anni trovata senza vita nella notte tra sabato e domenica a Marinella di Sarzana, lungo l'argine del torrente Parmignola. L'uomo, che intanto si trova nel carcere della Spezia in attesa che venga effettuata l'udienza di convalida del fermo, sostiene che la sera di sabato sarebbe andato in un bar assieme ad alcuni amici portandosi appresso pure il cane e di essersi fermato ben oltre la mezzanotte. Gli inquirenti non escludono l'ipotesi che l'uomo possa essere responsabile anche dell'altro delitto avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a circa un chilometro di distanza dal primo omicidio. Vittima un'altra prostituta, Camilla Bertolotti, una transessuale 43enne che frequentava la stessa zona al confine tra Toscana e Liguria. I carabinieri nel frattempo stanno continuando a battere ogni centimetro quadrato delle scene del delitto per cercare anche eventuali punti di contatto tra i due omicidi. Al RIS di Parma invece è affidata l'analisi delle auto nella disponibilità di Bedini, in particolare la Ford Fiesta grigia senza targa rinvenuta a pochi metri dal cadavere della seconda vittima. All'interno della vettura sono stati trovati alcuni bossoli di pistola dello stesso calibro dei proiettili sparati alla testa di Nevila Pietri e diverse tracce di sangue sul tappetino. Fondamentale sarà pure l'esame del cellulare di Bedini che può mostrare grazie alla presenza delle celle dove si trovasse esattamente il dispositivo la notte tra il 4 e il 5 giugno scorsi. Per lo stesso motivo sarebbe importante anche ritrovare i cellulari delle due vittime che risultano scomparsi. Tra gli indizi che potrebbero incastrare il 32enne di Carrara, appassionato di palestra, motori e con precedenti per furto e rapine legate tutte al mondo della droga, c'è proprio la denuncia del furto di una pistola presentata in precedenza dal padre. L'arma, che finora non è mai stata ritrovata, è di piccolo calibro e compatibile con i proiettili che hanno ucciso le due prostitute.